Le chiamano smart drugs, droghe sintetiche. Gli ultimi dati sulla loro diffusione sono davvero allarmanti. Il Ministero della Salute lancia un piano nazionale per bloccarne la vendita via internet. Valentina Bisti. 289 droghe che ben si camuffano in pasticche dall'apparenza innocua. Sostanze potenti, tossiche, pericolose. Si chiamano CAT, Kratom, Salvia Divinorum. Le cosiddette droghe furbe che hanno sostituito eroina e cocaina. E purtroppo non si tratta di una moda passeggera. Oggi una nuova frontiera per l'accesso o anche per il marketing e la pubblicizzazione di queste sostanze è proprio la rete. La rete che è la Gorà, il luogo d'incontro di tutti i ragazzi del mondo. Attraverso siti di giardinaggio, ricambi d'auto, libri scolastici si cela il mercato illegale. Basta scegliere tra le tante offerte risparmiando così un viaggio ad Amsterdam come suggerisce questa pagina. Si paga con carta di credito e attraverso normali corrieri la merce arriva direttamente a casa. Gli acquirenti hanno tra i 15 e i 55 anni, 70 i casi di intossicazione acuta arrivati al pronto soccorso in poco più di un anno. Non sanno neppure le sostanze che sono all'interno delle varie droghe che comprano. Quindi è una situazione ancora più pericolosa perché non si riesce a recuperare e a conoscere i sintomi precisamente. Nuove droghe che mutano in continuazione e che diventano ancora più pericolose quando si mischiano tra loro con effetti evidenti sulla salute. Gli effetti sono vari perché le droghe sono varie. Può colpire il sistema nervoso centrale con delle grosse difficoltà poi di coscienza della persona. Ci possono essere però anche degli effetti relativi al sistema cardiaco, quindi delle aritmie, anche dei problemi cardiaci gravi fino al coma.